ed eccoci qua olatodes times up e come potete vedere abbiamo un ospite abbiamo marco arcari giornalista di eurosport ciao marco benvenuto ciao ragazzi ciao giuseppe grazie dell'invito allora io ho chiamato marco perché marco su eurosport scrive di pallavolo e in questo momento per citare una copertina recentissima di sport week è un paese pazzo per il volley comunque la lista di successi è enorme e svisceriamo un po tutto perché ci sarebbe tante cose di cui parlare la prima partiamo proprio dalla roba più banale da spiegare noi abbiamo lasciato una nazionale che aveva il proprio eroe cioè ivan zaiter e improvvisamente l'ha bollato via cos'è successo diamo intanto questo recap per dare un po di connotato alla situazione che poi porta al trionfo della nazionale di fefe dei giorgi ma io credo semplicemente che l'aspetto di ivan zaiter sia l'aspetto che colpisce tutti i campioni dello sport anche i più grandi cioè il fatto che il tempo è nemico contro cui non si può combattere ivan ha avuto la sfortuna a mio avviso di essere il faro di una nazionale che ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto infatti si legge sempre che adesso si sta leggendo ovviamente i suoi detrattori fanno notare che senza zaiter questa nazionale ha vinto un europeo mondiale con lui non è mai andata oltre il secondo posto tra l'altro a rio de janeiro tra l'altro in quelle europee in quelle in quei giochi olimpici a rio de janeiro del 2016 senza ivan zaiter probabilmente l'italia non sarebbe nemmeno arrivata a medaglia per non dire in semifinale o anche prima ma detto questo semplicemente è un ricambio generazionale che non era più procrastinabile quindi io sono sposo in pieno la linea la linea di fede giorgi tra chi ha dato addi quanto rena max colaci chi invece alla nazionale vorrebbe ancora dare tanto come come lo zar però è innegabile che dopo averlo scoperto e pescato dalla 2 iuri romanos è diventato l'opposto titolare di questa nazionale garantendo livelli di rendimento eccelsi veramente eccelsi andando a vedere le statistiche dell'ultimo mondiale è stato il miglior opposto a livello statistico ancora più di bartos kurek che è stato premiato come miglior opposto del torneo perché ovviamente si sa che poi anche nei 6 più 1 ideali di ogni competizione c'è anche un po di politica quindi mondiale giocato in casa polonia seconda non è che sia stato rubato però diciamo guardando solo i numeri romano sarebbe stato l'opposto ideale del torneo su ivan io credo che possa rientrare nel giro della nazionale specie in una vnl che è una competizione un po snobbata diciamo così anche se dall'anno scorso cioè da quest'anno perché dal 2022 fa ranking a livello fivb e quindi sostanzialmente cambierà anche lì l'approccio delle squadre l'italia prima del quarto posto di quest'anno non era mai andata diciamo bene in volleyball nations league dall'anno prossimo secondo me inizierà a voler essere stabilmente nelle prime quattro anche perché poi sconfitte in quel torneo possono causare perdite di punti importanti nel ranking mondiale tutto qui sullo zar cioè non è stata costruita ad arte una polemica enorme lui poi ha rilasciato interviste secondo me nei momenti meno indicati per cui si possa parlare sui giornali cioè quando l'italia si stava prestando a giocare il quarto di finale con la Francia però io credo che 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 il rapporto almeno da quello che viene detto il rapporto tra De Giorgio e Zaitsev sia buono lo zar sia consapevole che comunque a 34 anni è problematico restare sulla cresta dell'onda e quindi la scelta è stata un po diciamo dovuta ecco passiamo il termine tu adesso hai parlato di Roma no ma c'è anche l'uomo di copertina di questa squadra che mi chiede detto io vorrei chiederti questi due ma anche gli altri protagonisti di questa squadra cosa hanno dal punto di vista anche mediatico del modo di di porsi di essere rispetto alla generazione precedente quindi quanto rena ma anche ma anche lo stesso zar cosa è cambiato magari anche nel modo di apparire che in questi tempi comunque molto importante io credo che Zaitsev sia stato un giocatore che alla pallavola italiana ha dato tantissimo soprattutto a livello mediatico cioè avere un personaggio come lui eh in nazionale nella nostra nazionale e coniugare anche i risultati perché comunque l'Italia prima di di Tokyo 2020 ha fatto sei olimpiadi di fila cinque sei olimpiadi potrei sbagliare ma cinque sono sicuro olimpiadi di fila a medaglia eh di cui in cui lui ha avuto buona parte di risultati in queste in queste medaglie anche a livello europeo anche a livello mondiale comunque buoni risultati sia stato un aspetto importante il cambio di di giocatori eh io io non noto la mediaticità che aveva Zaitsev e probabilmente né Micheletto né Lavia eh né Romano eh né Simone Giannelli che è il vero fenomeno secondo me di questa nazionale avranno eh o meglio non avranno la stessa mediaticità che ha avuto Ivan Zaitsev è chiaro però che sono giocatori giovanissimi tra 1999 la via eh 2001 Micheletto quindi comunque giocatori con dieci anni quindici anni ancora di carriera davanti e potranno sicuramente costruirsi eh aspetti importanti anche a livello mediatico la cosa che mi sorprende è che finalmente eh si riesce a valutare almeno dal mio punto di vista si è riusciti a valutare i giovani sportivi italiani quando sono realmente giovani eh cioè noi abbiamo questo grande limite di far passare giocatori eh magari di calcio di pallacanestro o di altri sport a venticinque ventisei anni come eterni giovani e poi quando hai un ventenne che eh MVP non lo vince ma è MVP degli europei è uno dei migliori schiacciatori anche se non viene premiato eh ai mondiali vince due medaglie d'oro trascina l'Italia under 21 al mondiale di categoria eh nello stesso anno in cui tra l'altro vince l'europeo nello stesso anno in cui gioca le olimpiadi è chiaro che finalmente si inizia a valutare anche mediaticamente l'aspetto realmente importante della gioventù sportiva quindi quando c'è veramente un giovane eh che che è tale e lo stesso vale per Daniele Lavia ad esempio che nessuno ne parla come dovrebbe ma è un 1900 un classe 1999 quindi ha ventitré anni e è ancora abbastanza giovane però sono felice che Micheletto venga venga diciamo empatizzato a livello mediatico con questo endorsement generalizzato perché è un giocatore a parte generazionale a parte che secondo me sarà destinato a cambiare un po' le regole di questo gioco come è stato Muserski tanti anni fa non so se lo conoscete ma uno che ha iniziato a farlo opposto nella Russia poi ha fatto il centrale poi è tornato opposto poi ha fatto lo schiacciatore cioè giocatore senza senso e io spero che Alessandro possa fare lo stesso eh lo stesso cammino sia in nazionale che nei club ovviamente io starei per esempio un attimo su un aspetto su questo aspetto qui perché comunque quest'anno la pallavolo italiana ha questo dato incredibile che ha fatto sei competizioni europee a livello giovanile e le ha vinte tutte quello che vorrei chiederti è cosa funziona a livello di formazione a livello anche di di passaggio all'interno dei club del campionato dei campionati sia maschile sia femminili cosa hanno in questo momento rispetto agli altri e anche per esempio considerando che magari in altri sport come per esempio il basket magari al di fuori delle delle big come possono essere Milano la Virtus Bologna i campionati arrancano eh la stessa cosa capita che ne so nel baseball nel rugby cosa la palla come mai il mondo del club ballavolistici riesce a essere resiliente? Ah ci sono più motivazioni la prima anzitutto che rispetto ad altri sport non esiste un torneo competitor a livello mondiale prendo il basket non esiste un NBA della pallavolo o meglio l'NBA della pallavolo è la superlega italiana e la WNBA della della pallavolo è la serie a uno eh femminile italiana con sprazzi di grande campionato turco perché va detto che anche nel campionato turco comunque ci sono giocatrici fenomenali e il livello si sta alzando considerevolmente eh io credo poi che eh l'impegno della federazione nella valorizzazione dei giovani eh derivi anzitutto da una scelta logica la pallavolo è lo sport col più alto numero di praticanti e quindi col più alto numero di bacino d'utenza da cui pescare eppure ad esempio non è che sia tutto oro quello che luccica nella pallavolo eh si dice da dieci anni che la pallavolo non non riesce a esprimere centrali forti come altre nazioni per quanto Galassi Anzani siano super giocatori eh e magari riesce a esprimere un bacino di schiacciatori tutti fortissimi che quindi gioco forza devono eh alcuni tanti dei quali devono restare fuori dalle convocazioni perché solitamente si portano tre quattro schiacciatori non di più in una competizione quindi credo che anche nella pallavolo ci siano aspetti eh potenzialmente migliorabili eh la differenza con altri sport è data però dal fatto che eh nei ruoli cardine ci si affida a persone che hanno giocato a pallavolo Julio Velasco è il direttore tecnico delle aree giovani di della nazionale italiana e e cioè Julio Velasco nel senso se non si conosce Julio Velasco non si può parlare di sport a mio avviso eh l'aspetto fondamentale è poi quello di un campionato in cui c'è un obbligo eh nello schierare i giocatori italiani sembra una stupidata sembra una cosa anacronistica io so che chi fa pallacanestro non vuole questo obbligo la realtà dei fatti ci dice però che eh in un campionato che eh contiene al suo interno tutte le stelle mondiali o quasi tutte tranne pochi giocatori brasiliani e argentini e forse qualche statunitense eh perché adesso anche i giapponesi stanno cominciando ad arrivare quasi tutti da noi eh la Cina non ha un movimento quindi non non ha un movimento maschile forte quindi non non parlo di Cina è innegabile che il dover schierare eh contemporaneamente tre italiani nel sei più uno eh rappresenta un punto di forza anche per la nazionale eh perché in tanti casi in questi tre italiani c'è spesso e volentieri un palleggiatore si pensi a Sbertoli a Trento si pensi a Giannelli a Perugia si pensi comunque ad altri grandi giocatori grandi palleggiatori italiani eh gioco forza c'è spesso un opposto Romano a Piacenza Zaitsev a Civitanova anche se probabilmente quest'anno non sarà titolare e comunque questo permette a di conoscersi vicendevolmente che quindi potrebbe essere una lama a doppio taglio perché poi l'Italia quando va a giocare contro squadre nazionali eh viene comunque conosciuta per il suo gioco quindi il capolavoro di De George è stato quello di cambiare un po' la nazionale e trasformarla passatemi il termine in una Francia 2.0 eh in cui l'aspetto fondamentale di queste nazionali è quello di non far cadere un pallone e di rigiocare tutto il possibile immaginabile il secondo punto di forza o meglio se questa è una lama a doppio taglio il punto di forza diventa quello che sostanzialmente tu puoi avere giocatori italiani al massimo livello di competizione perché le squadre italiane primeggiano anche a livello di competizione europee che siano Champions League, Cup, Challenge Cup e quello che volete e puoi permetterti di giocare con giocatori così forti a livello europeo e mondiale che eh naturalmente per osmosi migliorano anche la qualità dei giocatori italiani e quindi poi ti trovi ad avere non solo un campionato bellissimo ma anche una nazionale che vive di riflesso su quante sono stati i nove mesi precedenti di Serie A1 femminile o Superlega maschile. Adesso arriviamo alla capacità di non far cadere un pallone perché veniamo da Italia Belgio e veniamo da quel punto incredibile di Monica De Gennaro. È quella l'immagine della nazionale di Mazzanti? Più che quella sì 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 sicuramente sì per carità è innegabile però più che quella secondo me sono i muri di Anna Danesi. Io credo che che la nazionale femminile sia una squadra eh anche qui è brutto usare il termine generazionale però per chi è cresciuto nella palla a volo sa bene che il movimento femminile italiano ha vissuto grandi apici eh la FOP a Pedretti Bergamo tante altre squadre ma a livello di nazionale ha raccolto a mio avviso poi lieto di essere smentito se qualcuno vuole molto meno di quanto forse avrebbe meritato. Il mondiale del 2002 è stato un gran risultato eh però ad esempio ai giochi olimpici non siamo andati oltre il quinto posto eh a livello europeo si è raccolto secondo me meno di quanto avremmo potuto anche se siamo eh se sono campionesse d'Europa in carica eh quindi credo che l'aspetto diciamo chiave di questa nazionale di Mazzanti sia sicuramente eh la resilienza perché quello che si è visto comunque con quel punto che hai citato di di Mocchi De Gennaro è un qualcosa non di di incredibile per chi gioca a palla canestro eh a palla a volo perdonatemi ma di incredibile per chi non ha mai giocato a palla a volo cioè una grande squadra è la squadra che nell'errore perché quell'azione nasce da un errore in lettura di Alessio Orro che non legge l'opzione sul suo gioco sul suo tocco di seconda perché ormai le centrali del Belgio hanno quasi sempre opzionato le sue le letture di seconda dopo che gli aveva rifilato due pallonetti incredibili nasce dalla dalla capacità di Chirichella di tenere su un pallone incredibile e della stessa Orro di correggere il suo errore eh andando comunque a tenere vivo un un pallone incredibile e poi vabbè l'intelligenza di Mocchi De Gennaro che vabbè non scopriamo certo oggi eh ed è una giocatrice eh incredibile che riesce a fare cose sensazionali non è a caso che anche in questo mondiale sia la prima per per interventi difensivi cioè non so se raddoppiando addirittura triplicando il numero della della prima avversaria in classifica il che fa capire bene che giocatrice sia. Tu hai detto una cosa hai citato a Anna Danesi non abbiamo parlato di Paolo Egonu probabilmente questo il lavoro che ha fatto Mazzanti che ha fatto il gruppo dopo il il flop olimpico che ha scatenato molte polemiche anche al di fuori del del mondo di chi di di chi studia e conosce la palla a volo cioè di togliere il peso da 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 Paolo Egonu e di distribuirlo sul gruppo cioè di responsabilizzare tutte. Questo è innegabile è anche vero che quando hai in squadra un opposto come Paolo Egonu eh per forza devi affidarle 60-70 palloni a partita perché sai che è l'unica al mondo che chiude tutte le partite o il 99,9 per cento delle partite con oltre il 50 per cento di eccellenza in attacco quindi tu sai che se le affidi 70 palloni le ne mette a terra almeno 35. Se va male 30 eh se va malissimo 29. Quindi è è normale che quando hai una giocatrice simile eh devi devi farla devi devi diciamo chiamarla in causa tanto molto più delle altre. È anche vero che eh io credo che il flop olimpico eh se poi di flop vogliamo parlare perché comunque io tendo sempre a a a massimizzare le vittorie e a minimizzare le sconfitte che magari non è giusto eh ma sicuramente io parto dal presupposto che in quei in quei giochi olimpici eh c'erano anche le avversarie. La Serbia non è una squadra scarsa assolutamente eh certo perdere 3 a 0 così ha fatto sicuramente male ehm vincere in casa loro eh l'Europeo 3 a 1 eh ha diciamo un po' alleviato il dolore di quell'eliminazione perché era una squadra su cui io puntavo tantissimo per una medaglia ai giochi olimpici come puntavo tanto per per la maschile pur sapendo che ci fossero limiti in tutte e due le formazioni ma credo che rispetto a quella a quella delusione come l'hai chiamata tu olimpica ciò che è cambiato nella nazionale sia l'approccio mentale quindi continuare a giocare con il sorriso come è sempre stato fatto che che è un punto di forza di questa nazionale e non un punto di debolezza come si è letto sui giornali meno sorrisini meno meno cose social e più impegno sul campo questa secondo me è stata una stupidata irreale eh e più coralità quindi non esiste solo Paola Egonu come hai detto giustamente tu e la fortuna perché c'è stata c'è la fortuna anche qui grandissimo lavoro della federazione nel lavorare a livello giovanile eh si è trovata una Elena Pietrini che eh per altezze per velocità di colpo per extra rotazione del colpo da posto 4 è una giocatrice fenomenale e infatti anche contro il Belgio eh per quanto non vada sottovalutato l'aspetto da seconda linea nei fondamentali di seconda linea di Miriam Silla appena è entrata Elena Pietrini la partita è completamente cambiata perché lei non c'è raramente Elena Pietrini prende un muro molto raramente qui qui secondo me c'è un punto centrale cioè il fatto che noi abbiamo bisogno noi nel senso di persone che guardano poi vabbè ovviamente a livello giornalistico un altro mondo abbiamo bisogno di 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 guardare determinate cose e poi magari la realtà invece ci mostra i punti degli sguardi molto diversi delle cose molto diverse e siamo su un punto che che adesso sta venendo di nuovo fuori cioè è tornato il concetto della generazione di fenomeni ma probabilmente la generazione di fenomeni quella originale quella appunto di Velasco di Bernardi e così via è stata tale proprio perché il sembrava che ci fosse appunto il Bernardi quel il Gianni il fenomeno ma dietro c'era tutto un sistema dove tanti altri hanno tanti campioni quella cosa tanti campioni e tante campionesse prima è parlato per esempio della Nazionale Bonitta e la Nazionale Bonitta per certi versi ha vinto con la stessa cosa noi avevamo l'immagine di Elisa Tonut io mi ricordo vent'anni fa avevamo che ne so piccinini cacciatori avevamo quelle figure lì ma in realtà non c'era soltanto lì ci sono state tantissime campionesse penso Eleonora Albianco prima che mi è venuta in mente ma c'erano tante altre è un sistema diffuso probabilmente quella è quella cosa lì che ci manca nel raccontare la pallavolo italiana sì diciamo che che sicura allora su questo aspetto hai sicuramente ragione è vero che quando si parla di generazione di fenomeni se ti viene in mente un giocatore ti viene in mente Lollo Bernardi il problema è che dietro come dici giustamente tu avevi Zorzi Cantagalli Lucchetta Gardini cioè nel senso quella era una nazionale fuori da ogni logica di sport di squadra io credo che non sia ripetibile vedere vedere una nazionale del genere per quanto il Brasile abbia vinto comunque tre mondiali di fila anche loro però quell'Italia ha vinto credo sulle cinquantasette medaglie a livello senior conquistate nel dal 1989 quell'Italia credo ne abbia vinto una trentina perché vinceva avrà vinto tipo otto World League ha vinto tre mondiali di fila ha vinto se non sbaglio tre europei più altre due medaglie agli europei è mancato l'acuto dei giochi olimpici ma io credo che su questo qualcuno dovrà prima o poi scrivere un libro cioè sul rapporto che ha la nazionale italiana di pallavolo con l'oro olimpico però sì sono d'accordo con te è chiaro che un giocatore una giocatrice non fa mai l'intera nazionale non lo faceva Zaitsev non lo fa Paolo Egonu non lo faceva Lollo Bernardi non lo farà Spero e Caterina Antropova quando e se la naturalizzeremo o meglio quando e se la CEV e la FIVB le riconosceranno una nazionalità che lei ha già cioè quella italiana è innegabile che dietro ci sia un movimento importante ci siano un bacino di utenza come ti dicevo prima molto importante di giocatori tutti potenzialmente forti da cui attingere da cui scegliere i migliori in base anche alla condizione contingente del momento che il torneo richiede però sì ci sono sicuramente tantissimi tantissimi giocatori è un po' il limite di quando sostanzialmente si deve parlare della nazionale femminile che veniamo un po' criticati noi giornalisti perché scriviamo spesso di Egonu allora io noto che difficilmente do spazio solo a Paolo Egonu però ci sono partite così dominate che è impossibile non non parlare di Paolo Egonu vi faccio un esempio col Belgio secondo me la partita l'hanno svoltata le giocate di Caterina Bosetti e i muri di Anna Danesi Paolo Egonu ha chiuso comunque con 31 punti che non è che siano pochi in quattro set ha sbagliato un po' troppo in attacco soprattutto nel secondo set però comunque sono 31 punti voi capite bene che senza i 31 punti di Paolo Egonu il ragionamento che ho fatto in precedenza dei muri di Anna Danesi dei mani out dei pallonetti spinti di Caterina Bosetti cioè sostanzialmente la partita finisce 3-0 Belgio e decade un po' tutto il ragionamento quindi non è che si vuole spingere Paolo Egonu all'epoca si voleva spingere Ivan Zaitsev perché sono i nostri preferiti perché si hanno preferenze perché è innegabile che da soli non vincono ma è altrettanto vero il contrario senza di loro le altre non vincerebbero probabilmente mai il singolo fa tanto ma serve comunque un sistema un sistema di qualità vuole volendo sintetizzare nei giorni scorsi si è parlato molto del dell'Europeo Under 20 di Alessandro Bovolenta che sappiamo bene figlio di Vigor che a quanto pare già nella lista dei preselezionati per la Nazionale Maggiore di Fefe De Giorgi si è parlato meno per esempio di risultati ottimi anche a livello femminile ti vorrei chiedere un paio di nomi magari sia 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 maschili sia femminili da attenzionare per la nazionale che verrà ma guarda io allora secondo me sono tutti nomi nomi attenzionabili che può sembrare un po' un luogo comune una cosa scontata la realtà dei fatti è che in qualsiasi nazionale maschile o femminile a livello Under di quest'anno ci sono grandi grandi pallavolisti in essere come Bovolenta che secondo me è già un grande pallavolista e in potenza come tanti altri Luca Porro Santucci una palleggiatrice se non mi ricordo male che mi pare si chiami così ma sono quasi certo ce ne sono tanti il problema in Italia qual è a non forzare la mano su aspettative quindi Bovolenta è fortissimo perché comunque ha vinto un europeo Under 20 da MVP essendo due anni sotto la categoria essendo lui del 2002 quindi scusatemi del 2004 sicuramente numeri importanti non solo per quello che è riuscito a fare in attacco non solo per quello che è riuscito a fare in battuta non solo per quello che è riuscito a fare a muro però io andrei andrei cauto ecco cioè l'esempio chiave secondo me da prendere è quello di Alessandro Micheletto Alessandro Micheletto è stato un fenomeno a livello giovanile non lo conosceva quasi nessuno tranne gli addetti ai lavori perché a livello mediatico erano pochissime le le storie su Alessandro Micheletto e questo è un grave problema secondo me ma appena arrivato il nazionale a livello senior ha giocato delle olimpiadi da da fenomeno è stato diciamo consegnato del testimone da parte di Guantorena che sostanzialmente l'ha riconosciuto come suo erede naturale e poi si è andato a prendere nel giro nemmeno di un anno europeo e mondiale ripeto da MVP d'europeo poi premiato Giannelli giustissimo e però la scelta era tra loro due e un mondiale da miglior da uno dei migliori schiacciatori nonostante avesse una condizione fisica molto molto inferiore rispetto a quanto avevo offerto nel corso della stagione e questo è evidente cioè è arrivato eh un po' un po' scarico secondo me eppure è riuscito a fare comunque la differenza in modo molto intelligente in questo secondo me ci sono tanti giocatori giovani che possono fare la differenza ci sono tanti giocatori che possono costruersi una grande carriera tra Super Lega e Serie A uno io credo però che quello che sia più importante di tutto sia semplicemente la capacità di attendere e di non forzare la mano cioè non è che perché Bovolenta ha vinto un europeo da under 20 eh da MVP facendo numeri impressionanti contro la Bulgaria eh facendo un tie break devastante contro la Polonia eh allora deve per forza diventare il nuovo opposto della nazionale il nuovo fenomeno della nazionale il nuovo volto della nazionale no c'è tempo per ogni cosa eh tendo poi a far rilevare che dei sei europei vinti eh sui sei giocati a livello under è un qualcosa che non succederà mai più perché probabilmente non succederà mai più non era mai successo eh a livello di di una nazionale singolare eh di questi sei europei vinti non vorrei mai sottovalutare il risultato dell'Italia però bisogna anche far notare come l'assenza della Russia che di questi sei europei ne deteneva quattro eh ha un peso non indifferente quindi attenzione da un lato a sottovalutare il grande impatto di della della gioventù italiana a livello di pallavolo dall'altro a sovrastimarlo e quindi pensare che anche l'anno prossimo debba succedere la stessa cosa o quando la Russia rientrerà nel giro delle squadre che comunque parteciperanno a questi tornei eh debba succedere la stessa cosa la Russia a livello giovanile a squadre impressionanti a un bacino di utenza impressionante a giocatrici e giocatori che faranno la differenza anche a livello senior a Rina Fedorovceva Tatiana Kadoshkina cioè hanno giocatori impressionanti e quindi diciamo attenderei ulteriori banchi di prova anche a livello della nazionale senior perché secondo me questo è un mondiale in cui la Russia ad esempio avrebbe potuto fare molto bene eh però eh essendo stata esclusa non ha potuto nemmeno dimostrare il suo valore concludiamo col fatto che in questo momento si sta giocando il mondiale femminile abbiamo visto le le prime partite da chi si deve guardare questa nazionale per arrivare lì dove ovviamente vorrebbe arrivare anche comunque anche le giocatrici su questo non si sono nascoste ma io ho guardato un po' di partite anche di altre nazionali io credo che l'Italia anzitutto anche qui può sembrare un luogo comune ma deve guardarsi soprattutto da se stessa se il lavoro a livello di preparazione atletica o meglio di richiamo della preparazione atletica è stato improntato per arrivare alla seconda fase con le sfide contro Cina, Brasile e Giappone che saranno decisive per poi andare a giocarsi una medaglia e dovesse andare tutto come è stato programmato io credo che queste prime cinque partite l'Italia le abbia giocate probabilmente al 30 per cento 40 per cento delle sue possibilità la sfida col Belgio ha mostrato comunque una nazionale capace di recuperare svantaggi importanti capace di non andare mai sotto a livello mentale e questo secondo me è l'aspetto più importante di queste prime cinque partite i Paesi Bassi o meglio l'Olanda perché vedo che tutti la chiamano Olanda anche se è sbagliatissimo però va bene accodiamoci a questa cosa l'Olanda ha perso un set con Porto Rico e di per sé questa potrebbe tra l'altro il primo di per sé questa potrebbe essere una notizia che nessuna squadra è quindi imbattibile o comunque superiore così tanto nel nostro girone è chiaro che alla fine poi le squadre a cui ci si debba guardare sono sempre le solite la Serbia non ha Ognenovic in palleggio ma mantiene comunque un livello devastante in posto due in posto quattro perché Boscovic e Busa sono davvero grandi giocatrici Busa non me l'aspettavo ma è diventata una giocatrice irreale nel volgere di 12 mesi il Brasile è sempre il Brasile lo sappiamo dalle finals di WNL gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti e per quanto siano un po' incalando come leggo su su siti e quant'altro io credo che alla fine anche loro arriveranno a giocarsi una medaglia perché Kirali è sempre Carcirali e poi metterà in mezzo nel diciamo nel calderone di quelle che possono potenzialmente ambire una medaglia ci sono sicuramente la Cina che è sempre un po' indecifrabile perché non sai mai A che convocate porti alle rassegne ridate e B come poi renda effettivamente nelle competizioni Giappone e Turchia anche se la Turchia sto notando che fatica a vincere partita per Salta Ibreg con la Thailandia ha vinto ieri con la Repubblica Domenicana se non ricordo male solo Alta Ibreg però e quindi è un po' incostante attenzione però perché tipo ecco io i miei 10 euro su medaglia impronosticabile li ho messi sulla Turchia che secondo me è una nazionale che se trova la quadra che non ha ancora trovato diventa ingiocabile per tanti Direi che possiamo chiudere qua perché ti ho torchiato 35 minuti ti è andata bella lunga È stato un piacere Ringrazio ancora una volta Marco Alcari per esserci stato e quando vuoi sei assolutamente il benvenuto qui a Time's Up Grazie mille Giuseppe, buona giornata a tutti